Domenica 18 ottobre 2020, allora io mi sa tanto che ricomincio la rubrica di necessità e virtù, che mi sto facendo? Mamma mia cotorino, questo è broccolo romano, sono andato in frutteria, l'ho comprato, non poco, poi l'ho lavato, l'ho capato come si dice a Roma, poi l'ho lessato e poi l'ho tagliato, anzi prima l'ho tagliato e poi l'ho lessato, poi i pezzi sempre più piccoli, l'ho messo in questa padella tipo wok e adesso lo sto ripassando, non posso fare tanti movimenti, ma guardate che meraviglia, guardate come soffiggere, chiudere un po' di olio, un po' di sal, io ci metto anche qualche sapore in più, e voilà, e noi naturalmente ci vediamo tutto e tutti, scusate, su ematube.it, mi raccomando il mio nuovo format, c'era una volta il pressbook, semplicemente pressbook, broccoletti alla romana ripassati e saltati in padella. Grazie. 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 Grazie.